Tu eri Matteo, terzo punto di qualifica per Roma Throwdown, categoria Scaled, box indipendente. Box indipendente è fantastico, fantastico. Concept 2, ah ma lei è affiliato. Wallball 9 kg. Metrati. Ok, ok, 305, contagio, si, si. Inserire 20 kg, 20, colla, 20, colla, 20, colla. Dammi, dammi il telecomando. Telecomando, chi c'è l'ha? Aspetta. Special guest, Manuela, 18.1. Grande, 18.1. Manuela. Dimando, ci sei? Vai, Matteo. Vai, Matteo, respira. Vai, Matteo, respira. Buono. Quattro. Cinque. Buono questo il ritmo, eh? Sei. Sette. Otto. Valente. Nove. Dieci. Undeci. 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 Tredici. l'ultima 15 buona ocusidad questo il ritmo è ottimo fino alla fine non scende mai mettete come limite 1150 non scende mai sotto ottimo 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 Mattè respira ottimo mai sotto i 1150 buono così vai solo 18 vai 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 l'ultimo 15 buono lo scende sotto così costante buono Mattè scende sotto sicuro che sono l'ultima buono buono 4 4 5 7 8 8 10 3 2 1 vai 19 20 respira Matteo 3 3 2 respira mentre fai 28 28 un'altra 30 30 respira Matteo 4 4 3 2 1 vai 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 40 respira buono eh 5 4 3 2 1 vai 5 5 6 7 48 spingi Mattè 5 9 50 stai proprio sotto sotto eh stai sotto al muro nel senso stai vicino 4 3 2 1 vai 51 52 respira 53 54 5 56 vai Mattè 57 58 59 60 61 62 dai l'ultima tre 63 spingi 64 si Mattè 65 c'ho l'ultima 10 parti meno 9 meno 8 meno 7 meno 6 meno 5 meno 4 meno 3 meno 2 alza là meno 1 fai buono Mattè respira respira fambel jerk non ti affatichi fa la prima fa la prima e poi respira assaggia sul bilanciere bravo 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 vai mancano 13 12 bravo Mattè respira vai vai meno 11 vai vai ne mancano solo 11 respira bravo 10 9 respira Mattè 8 dai vai vai che tempo c'è si respira Mattè vai 6 5 mancano 4 mancano 3 respira respira devi farne ultime due ultime due dai che tempo c'è respira e fa l'ultima vai Mattè vai Mattè vai Mattè falla questa su bravo vieni qua vai Mattè c'è 3 minuti ricordate 1150 non scende mai sotto pure se sei stanco dai 1100 va bene uguale dai dai cambia il cazzo ottimo 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 respira usa tutto adesso Mattè schiena e gambe è finito è finito dai vai 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 Mattè vai Mattè vai 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 ottimo c'è due minuti Mattè vai che andiamo a fare wall ball respira respira butta fuori l'aria quando spingi non scende non scende non scende vai un minuto e mezzo Mattè un minuto e mezzo ti dà adesso non ti spara tutto ma alza un po' spingi 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 Mattè spingi minuto e 15 Mattè spingi 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 c'è l'ultimo minuto vai e devi finire vai 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 Mattè vai Mattè vai 50 secondi vai vai che si chiude vai che si chiude tira tutto adesso Mattè 40 secondi tira 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 vai che si finisce tira 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 muori dopo tira 30 secondi fa se cazzo di 5 calorie vai 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 Mattè tira tira torso gambe torso gambe muori dopo vai 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 Mattè vai Mattè 10 secondi 1 2 3 4 5 passo tempo 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 3 2 2 8 10 10